Filippo Ganna, Jonathan Milan, Simone Consonni e in questo caso non Francesco Lamone ma bensì Liam Bertazzo dopo essersi laureati campioni olimpici battendo la Danimarca nella finale di Tokyo 2021 si laureano anche campioni del mondo ed è il primo oro per l'Italia in questa specialità dal 1996 non vincevamo in questa specialità dal 96 ma quest'anno abbiamo dimostrato che con l'ulteriore crescita di Filippo Ganna e l'esplosione definitiva di Jonathan Milan che adesso attendiamo tantissimo anche nell'inseguimento individuale l'Italia è diventata veramente la nazione di riferimento per il quartetto e tra l'altro le grandissime notizie non terminano qui perché anche il quartetto femminile accede alla finale per loro e sfiderà le fortissime quasi imbattibili tedesche per conquistare appunto il titolo di ridato a livello femminile prima volta nella storia che l'Italia entra in una finale del quartetto a livello femminile dunque veramente una scuola di inseguimento sia individuale che a squadra e quella italiana che sta veramente esplodendo ma in generale il ciclismo su pista italiana sta vivendo probabilmente uno dei migliori momenti nella sua storia Comunque parlando della finale di oggi Italia che dopo aver eliminato tranquillamente la Gran Bretagna se non sbaglio nel primo turno diciamo nelle semifinali tra virgolette dopo essersi qualificate con il miglior tempo appunto di qualifica accedono alla finale dove sfidano i padroni di casa i francesi con Thomas Boudin, Benjamin Thomas, Thomas Delis e Tabeillon una formazione appunto anche questa in netta crescita con due elementi molto giovani come Denis e Tabeillon e due elementi molto forti su pista ma anche appunto su strada come Thomas Boudin e soprattutto Benjamin Thomas che lo vedremo protagonista anche nelle gare appunto dei prossimi giorni tra Omnium e Madison in questo caso appunto mancava colui che ci ha lanciati alle Olimpiadi Francesco Lamon non so bene perché probabilmente per scelta tecnica perché Lamon è stato schierato nelle qualifiche non è stato schierato in semifinale dove è stato portato appunto Liam Bertazzi che poi è stato riconfermato anche per la finale dunque la partenza in questo caso l'ha fatta Jonathan Milan altro corridore che ha fatto soprattutto nelle categorie giovanili molta pista anche nel settore velocità è uno specialista anche nel chilometro da fermo per cui appunto è un'atleta perfetto per lanciare il quartetto e a differenza di come capita di solito che il lanciatore è quello poi che è il primo a staccarsi in questo caso invece Jonathan Milan essendo fortissimo sia nel lancio ma anche appunto sul passo nell'inserimento individuale ha poi tenuto ed è stato uno dei tre che appunto hanno raggiunto l'arrivo in compagnia appunto di Ganna e di Bertazzo di Consonni scusate comunque ottima partenza di Milan che guadagna subito circa tredecimi sulla Francia Francia che però dopo circa 800-900 metri fa il controsorpasso con a un chilometro appunto della partenza la Francia è in testa ma con veramente pochissimi centesimi di vantaggio appunto sull'Italia si conferma questo trend anche al secondo chilometro dove la Francia è davanti per circa un decimo sull'Italia al terzo chilometro invece c'è il controsorpasso dell'Italia che è davanti 4 decimi rispetto alla nazionale francese che però recupera di nuovo e si riporta sostanzialmente di nuovo in parità a due giri dal termine Francia e Italia erano a distanza di circa due decimi però a questo punto arriva il colpo di scena perché uno dei tre elementi rimasti della formazione francese Francia che tra l'altro è rimasta in tre un paio di giri prima rispetto appunto alla nostra nazionale italiana con Bertazzi che ha dato tutto prima di staccarsi per cercare appunto di guadagnare terreno sui francesi francesi che appunto esplodono sostanzialmente nel finale a due giri dal termine uno dei tre elementi perde le ruote di Buda e di Benjamin Thomas quindi penso sia penso fosse uno tra Denis e Tabillon onestamente non so benissimo chi fosse però Benjamin Thomas si gira se ne accorge e a quel punto capisce che ogni possibilità di conquistare l'oro sono svanite Francia che probabilmente ha cercato di dare il tutto possibile perché sapeva che l'Italia sulla carta era più forte ha provato a dare il tutto per tutto spingendo fortissimo sin dai primissimi giri cercando appunto di resistere e tenere duro nel finale ma appunto uno dei tre elementi non ce l'ha fatta si è staccato e questo ha portato a una vittoria tra virgolette facile per l'Italia perché appunto negli ultimi due giri l'Italia è andata a guadagnare due secondi a terminare con 3 minuti 47 secondi e 19 con circa due secondi di vantaggio appunto sul quartetto transalpino dunque oro Italia argento per la Francia e bronzo per la Gran Bretagna che batte nella finale terza e quarto posto la Danimarca sempre per un episodio molto simile a quello successo nella finale per l'oro con la Danimarca che era leggermente in vantaggio ma si è disunita nel finale con un atleta che appunto ha perso le ruote degli altri due quando erano già rimasti in tre per cui Danimarca che ha dato addio ha detto addio alle sue possibilità di conquistare una medaglia comunque con un quartetto completamente rinnovato con solamente uno dei finalisti di Tokyo presente appunto anche in questa rassegna e ridata di Roubaix e l'Italia appunto conquista l'oro battendo in casa i francesi nello storico velodromo di Roubaix veramente cosa possiamo volere di più dopo l'oro di Martina Fidanza nello scratch arriva anche l'oro appunto nel inseguimento a squadre maschile male che vada sarà argento nell'inseguimento a squadre femminile ci aspettano ancora tantissime gare già oggi con lo scratch di Viviani le eliminazioni di Paternoster poi l'omnium con Viviani e al femminile Balsamo insomma veramente dei mondiali che regaleranno grandissime emozioni sia per l'Italia sia a livello generale con tutti i grandi pistard mondiali presenti che si sfideranno appunto nella sei giorni di Roubaix comunque ragazzi direi che per questo è tutto vi lasciate un commento e un piacere iscrivetevi e vi saluto a la nostra pagina e se non ci vediamo a un prossimo video vi saluto a tutti i giorni di Paternoster